ciao a tutte ragazze benvenute in questo nuovo video di sfondo potete notare mi tao cat perché ho appena finito di registrare l'unboxing e se l'avete visto vi voglio dare un'ottima notizia sono riuscita a smacchiare il gattino bianco quindi non era una macchia impossibile ecco quindi sono qui così perfetti bellissimi un attimino da parte e concentriamoci sulla bracciale pandora che vi voglio mostrare oggi qua sgrana tutto perfetto allora questo bracciale ve l'ho mostrato diversi mesi fa e praticamente ho cambiato tutto ho cambiato la base ho aggiunto dei charm diciamo che l'ho arricchito è pieno non mi dispiace anche se in realtà poi non mi dispiaceva neanche come era fatto prima perché era forse un po più elegante più portabile più leggero ma l'ho arricchito di significato anche se visto che si tratta di un tema famiglia non è che ci sono riuscita a far star dentro tutto quello che avrei voluto però va bene così partiamo subito dalla base abbiamo un bracciale snake maglia morbida con la chiusura in rose a forma di cuoricino una chiusura piuttosto forte l'ho utilizzato già spesso e volentieri questo bracciale e finora è andato tutto bene poi ho aggiunto la catenina di sicurezza adesso cosa è successo aspettate ecco la catenina di sicurezza degli anellini molto stretti ricoperti di zirconcini si si blocca sulle filettature ma va bene lo stesso e da questa parte abbiamo un doppio pendente a forma di cuoricino quindi la prima parte è diciamo la sagoma del cuoricino in rosa con l'intreccio dell'infinito e sotto abbiamo la seconda medaglietta aspettate che qua mi pare un intervento chirurgico ragazzi è talmente piccolino la seconda medaglietta un po sporchina devo dargli una passatina con appunto il cuoricino pieno in argento con su scritto family quindi una catenina che si presta molto bene per questo tipo di bracciale e adesso cerco di farvi vedere tutti i pezzi allora forse è meglio che lo apro così riesco a gestirlo meglio portate pazienza ok allora partiamo dal pendente con il cagnolino come saprete ce ne sono di vari tipi io ho scelto quello che dovrebbe essere tipo il bulldog francese è stupendo in realtà non ho un bulldog francese ma ho un cagnolino piuttosto piccolo intendo come stazza è un westy cagnolino piccolino ho avuto anche un altro cane di cui vi ho parlato tempo fa e quindi comunque questo mi va a simboleggiare un attimino l'amore che provo per per i miei cani sia quello che ad oggi fa ancora parte della nostra famiglia che appunto la mia sami che purtroppo non c'è più comunque molto carino ragazzi non mi dilungo troppo nei discorsi devo dire che è super ricco di dettagli e qui sotto vediamo se riesco a farvelo vedere c'è la punzonatura il retro è fatto in questo modo si può notare il collarino che tipo ad anellini carinissimo e anche una piccola medaglietta vedete con lucchetto molto carino poi abbiamo qua ci sono tipo 350 murrine ho preso queste murrine rosa opache e vi dirò la verità inizialmente non mi piacevano cioè non mi dicevano nulla ma essendo molto compatte essendo che comunque mi vanno a occupare poco spazio e comunque sono di un bel rosa delicato se poi la vogliamo vedere tutta alla fine ho deciso di acquistarne ben quattro infatti in questo bracciale ne ritroverete appunto quattro il rivetto in rose e va a riprendere alcuni dei dettagli del bracciale che sono per l'appunto in rose ed eccola qui poi abbiamo immancabile tartaruga io l'adoro ragazze troppo carina ecco qui i dettagli del guscetto il musetto è fatto proprio molto molto bene questa l'ho trovata su vinted nuova di pacca e la ragazza me l'ha lasciata veramente a un buon prezzo qui sotto ritroviamo le sue quattro zampette sotto ogni zampetta ritroviamo un cuorecino in rilievo abbiamo anche il codino giustamente e qui c'è la punzonatura s925 ale per quanto riguarda le tartarughe che ve lo dico a fare ragazzi io ho un amore spassionato incondizionato per le tartarughe ad oggi ne abbiamo ben tre le tartarughe di terra ma anche quelle marine amo le tartarughe le tartarughe fanno parte della famiglia quindi ho detto perché non inserire una tartarughina in questo bracciale ecco poi abbiamo la lucciola il pendente con la lucciola qui come potete vedere abbiamo un anellino molto vale ed è abbellito da queste microsferette tutte in fila vedete microsferette abbiamo la nostra lucciola come ben saprete il sederino della nostra lucciola si illumina al buio molto bella e qui sotto c'è una seconda medaglietta c'è scritto tu illumini la mia vita e qua dietro abbiamo invece i vari marchi con la o coronata e quant'altro anche questa c'è il suo bel significato ed è proprio accanto a uno dei pezzi più importanti del bracciale anche perché è stato uno dei primi che ho inserito abbiamo il cuoricino bello vissuto come potrete notare con su scritto dead qui sotto c'è un cristallo a forma di cuoricino incastonato all'interno del cuore principale e dietro è fatto allo stesso modo ritroviamo la scritta dead e il cuoricino papà non può mai mancare anche se come già saprete come vi avrò sicuramente già detto non non c'è più fa parte sempre di me e e so che sarà sempre al mio fianco adesso mi vien da piangere quindi questo è un altro pendente significativo abbiamo la coppia di sposini che mi sta per abbandonare ragazze perché come potrete vedere qui l'anellino si è praticamente aperto l'anellino si è aperto non so come sia potuto succedere probabilmente si è consumato io ho cercato anche di stringerlo e ho fatto la cavolata più grande che potevo fare perché ovviamente con la pinza sono andata a creare dei segnetti che forse voi non notate ma ci sono e me lo aspetto che da un giorno all'altro mi rimarrà solo l'anellino attaccato gli sposini se ne andranno chissà comunque l'anellino qua invece è tondo anzi è guardate ovale anche lui perdonatemi ed è ricoperto da zirconcini che piano piano si stanno effettivamente inglobando infatti anche al tatto li sento proprio lisci lisci stanno diventando un tutt'uno con l'argento questo pendente è molto bello e molto ricco di dettagli quindi abbiamo lo sposo che tiene in braccio la sua sposa ha un bouquet di fiori tra le sue manine talmente piccolo che non so se riuscite a cogliere tutti i dettagli cioè fantastici anche i capelli della sposa praticamente a un mezzo raccolto fantastico vestito ovviamente lungo tutto texturizzato guardate qui sotto ci sono le scarpettine cioè ci sono dei dettagli minuscoli ma stupendi e questo è il retro e ovviamente gli sposini si stanno dando un bacino meravigliosi poi abbiamo le clip e questo è uno dei pochi bracciali con filettature centrali che ho e in questo caso ho scelto le clip con con i cuoricini il rose molto semplice ma molto carina anche lei non occupa molto spazio ritroviamo la murrina rosa opaca ve lo avevo detto che qua ci sono 3000 murrine rosa opache ma poi lo vedrete nell'insieme e mi saprete dire anche voi se sinceramente ce le vedete oppure no se ho esagerato insomma ritroviamo i pezzi che vi ho fatto vedere anche nella nella versione precedente di questo bracciale quindi abbiamo il bimbo io adoro questo bimbo perché ha un cappellino meraviglioso con tanto di elichetta che gira si muove fantastico il cappellino in parte smaltato di rosa e di verde acqua questo è il nostro bimbetto alla frangetta un faccino davvero simpatico e sulla sua magliettina c'è la stampa della o coronata ovviamente questo è il retro e questo bimbo ovviamente chi mi va a rappresentare daniele il mio bimbo che ormai è più un ragazzo che un bimbo un ragazzino mettiamo laggiù così ho sostituito ecco il pendente centrale ho inserito questo fantastico pendente qui abbiamo un anellino tondo e liscio al centro c'è un piccolo zirconcino e questo pendente ha doppia medaglietta abbiamo un cuore il contorno è praticamente composto da tante sferette all'interno abbiamo cuorecini di ogni tipo da cuorecini vuoti a cuorecini pieni cuorecini composti da sferette c'è di tutto ragazzi insomma e al centro c'è la scritta family giustamente la seconda medaglietta invece è fatta in questo modo in madre perla rosa vi dirò che ha già qualche anno questo questo pendente e ho la sensations che questo rosa sia diventato un po più gialli sul retro ci dovrebbe essere scritto qualcosa aspettate ragazzi che provo a leggere a rigirare tutto io sto diventando pure orba no vabbè love make a family ok sì anche questo è un pendente che ha già diversi annetti e a fianco al pendente centrale ritroviamo anna e mia figlia la bimba quindi abbiamo la bimba con i codini guardate che carina ecco lei è un po ingombrante effettivamente vedete che poi quando le murrine vanno a stringere i capelli le vanno all'aria però ci sta ecco l'importante è quello quindi la bimba ha una testolina tutta texturizzata anzi in realtà la parte centrale non è texturizzata la frangetta è tutta texturizzata i capelli come vi dicevo sono raccolti in due codini l'espressione è più o meno quella del bimbo se vogliamo solo che lei ha le ciglia ha un accenno di ciglietta lunga ecco indossa un vestitino tutto argentato e tra le sue braccia stringe un orsacchiotto e a sua volta l'orsacchiotto tra le sue zampotte stringe un cuoricino smaltato di rosa fucsia molto carina anche lei qui non vi ho più fatto vedere le punzonature ragazzi comunque sono tutte sui laterali ecco s925 ale spero che vedrete qualcosa e il bimbo dove ce l'ha la punzonatura lui invece ce l'ha dietro la testolina vedete scusate che al contrario ma eccola qui murrina rosa un'altra murrina rosa ve l'ho detto mi sono innamorata da che proprio non le guardavo a che ho deciso di riempirlo di murrine rosa vediamo un'altra clip in rose con cuori pendentino e questo vediamo è sporco da morire devo andare a pulirlo ragazze e la punzonatura dov'è da questa parte ok non so se riuscite a vederla il cerchietto è ricoperto da cristalli belli importanti direi non sono piccoli ma proprio per niente ok e questo pendente è composto da tre micro pendenti quindi abbiamo l'orsacchiotto che è l'amore super cicciottoso a tratti brunito alcuni dettagli sono bruniti eccolo qui poi abbiamo il ciuccetto e poi abbiamo un cuoricino anche qui in madre perla e stessa cosa di prima ragazzi sinceramente me lo ricordavo leggermente più bianco e invece adesso è di un bel color crema è un color crema si sembra un color crema ragazzi madre per lato e questo mi va a rappresentare la piccolina di casa soffia abbiamo il cuore con la mamma cioè qua mia sorella mi ucciderà perché c'è mamma papà figli non c'è mia sorella ragazzi non ho trovato lo spazio potrei togliere tipo una tartaruga no no tengo la tartaruga e non metto niente che mi riporti alla mente mia sorella se mi sente mucide ma va bene qua abbiamo un charm dedicato alla mamma qua c'è scritto lucky to have you e qui sul davanti come potete vedere c'è un fiorellino in rilievo intorno al fiorellino ci sono dei trafori che ricordano appunto poi petali dello stesso fiorellino sul retro c'è scritto aspettate che lo giro ecco mom e al posto della o come potete notare abbiamo un cuorecino in rilievo ok io come sempre vi spoilero tutto 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 ok va bene dopo la mamma abbiamo questo bellissimo pendente che si presta sicuramente anche per un bracciale a tema natura un bracciale a tema giardinaggio io ho voluto ricollegare due significati importanti per me che non vi sto a dire perché sennò vi faccio un asciugone tremendo fatto sta che qua abbiamo un pendente con anellino tondo qua sul davanti abbiamo un fiorellino e al centro del fiorellino se non sono diventata orba c'è un piccolo cristallo sul giallo doppio pendente perché come potete vedere abbiamo un annaffiatoio ma guardate quanto è bella tutti i bucherellini sul davanti è veramente troppo carino vediamo qua sotto è fatto così semplicemente qua ci deve essere scritto qualcosa ragazzi ma veramente io ho bisogno di un paio di occhiali oggi comunque questo è l'innaffiatoio e qui abbiamo anche una palettina e sulla palettina come potete vedere ci sono tipo dei fiorellini con al centro dei piccoli cristalli vi dico soltanto che sicuramente questo pendente può avere anche un significato del tipo prendersi cura di qualcosa o di qualcuno ok ci siamo ragazzi abbiamo poi il cactus vicino giustamente all'innaffiatoio il cactus su questo sinceramente vi dirò ragazzi ho qualche non sono proprio convinta che sia originale l'ho acquistato su vinted e la cosa che non mi ha convinto ragazzi è che ha fatto una fatica tremenda entrare nel braccialetto cioè questo ha un bracciale con le filettature cioè si è bloccato ho dovuto sforzare non poco per farlo entrare però per il resto sembra fatto veramente molto bene cioè non capisco comunque questo cactus ha le braccia chiamiamole così aperte il faccino super kawaii molto semplice due puntini e una virgoletta che vanno poi a recreare il faccino occhietti e boccuccia qui sulla sua testolina abbiamo un fiorellino smaltato di fucsia è simpaticissimo qua dietro abbiamo la punzonatura e qui sul davanti c'è la scritta free hugs è un piccolo cactus desideroso di coccole e di abbracci e anche questi sono molto importanti in famiglia è bello manifestare l'amore con gesti affettuosi quindi penso che alla fine avrete capito che cosa volevo dire con questi due con questi due charm ritroviamo poi non hanno solo quel significato perché poi vabbè a tutta la famiglia piace la natura ma non dilunghiamoci ragazzi perché siamo alla fine e se ce la faccio non vi registro un video di 30 minuti questa volta magari no abbiamo l'ultima murrina ancora una murrina rosa opaca ed infine l'ultimo pendente e poi mi rimane speculare al cagnolino dopo vi faccio vedere con le tre margherite sì tre margherite questo se non sbaglio è un fuori produzione l'ho trovato con un po di fortuna su su vinted ed è fatto in questo modo qua il cerchietto è ovale semplice anche molto sottile la punzonatura rimane all'interno ragazzi non vi sto qua a fare impazzire anche a voi comunque fidatevi la punzonatura è all'interno e questo è quanto direi che sono piuttosto soddisfatta ragazzi adesso ve lo faccio vedere bene nel risultato finale appunto è un bracciale a tema famiglia ci sarebbero state molte altre cose da aggiungere ma lo spazio è quello che è e mia sorella mi uccide rimane come vi dicevo all'inizio sui toni comunque del rosa molto tenue e del rose adesso vi rigiro un po i bimbetti perché sennò che sto combinando ragazzi perché sennò non riuscite a vederlo bene ecco vi faccio una panoramica molto veloce ho cercato di bilanciarlo al meglio infatti le murrine si ripetono ma va bene così vedete speculare gli sposini che adesso si sono incastrati abbiamo il cuoricino l'orsacchiotto il cuoricino il ciucciotto cuoricino per il papà cuoricino per la mamma libellula e dall'altra parte abbiamo l'innaffiatoio cosa vi stavo dicendo ok poi da questa parte abbiamo la tartarughina che rimane cicciotta e da quest'altra abbiamo il cactus qui si ritrovano ancora le due murrine rosa opache e chiudiamo appunto con il pendente cagnolino da questa parte e il pendente margherite da quest'altra vi ripeto penso che sia venuto abbastanza bene fatemi sapere che cosa ne pensate a me ovviamente piace tantissimo la parte centrale mi piace tanto questo pendente cioè seppur molto semplice non è nulla di innovativo mi piace mi piace veramente un sacco rimane piuttosto pesante vi dico la verità sarà che mi sto abituando ai troll beats e anche quello che vi ho fatto vedere più di recente è super pieno ma vi giuro che rispetto a questo rimane molto più leggero boh non lo so comunque ragazzi questo è qua se mi sapete che cosa ne pensate se preferite bracciali pieni o bracciali un po' più leggeri e portabili io odio le catenelle quando si incrociano in questo modo di nuovo vi mando un bacione grandissimo ragazze spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e ci vediamo alla prossima ciao